Visto che devo andare via non prenderò più alcuna decisione. Così si è polemicamente espresso il presidente Daniele Sebastiani nel dopo Pescara Lucchese, partita nella quale riesplosa la contestazione ai danni del massimo dirigente Biancazzurro. Eppure proprio domenica, a poche ore da quelle parole, qualcosa è accaduto, visto che il direttore sportivo Luca Matteassi ha contattato Massimo Oddo. Intanto questo è il segnale che la fiducia nei confronti di Auteri si è praticamente esaurita. A Grosseto o la squadra fa risultato pieno oppure il tecnico di Floridia potrebbe lasciare. E il condizionale è d'obbligo perché tutti i tasselli devono andare al loro posto. Massimo Oddo è ancora sotto contratto dopo il biennale sottoscritto a fine agosto 2020 e poiché avere tre allenatori a libro paga è un lusso che il Pescara non può permettersi ecco che la prima alternativa è proprio il tecnico pescarese, artefice dell'ultima promozione in Serie A ma altresì esonerato 12 mesi fa con un bottino di quattro punti in nove partite nello scorso campionato DB. Di nome ne sono circolati molti in questi giorni, tra questi Vincenzo Vivarini che ha appena firmato col Catanzaro ma i vari Pilon, Zauri, Toscano sarebbero soluzioni credibili solo in caso di rifiuto di Oddo di tornare sulla panchina bianca azzurra. Il primo sondaggio di Oddo ha invece appurato la disponibilità dello stesso a tornare in panchina. Qui poi si porrebbero altre questioni. Il campione del mondo del 2006 ritroverebbe il preparatore Ermanno Ciotti ma allo Stato non avrebbe con sé i suoi principali collaboratori rimasti senza contratto. La loro presenza potrebbe creare un'eventuale posizione di attrito con la società. Peraltro nel gruppo lo stesso Oddo ritroverebbe calciatori con cui vi sono stati problemi lo scorso anno, su tutti Ledian Memushai e Cristian Galano. Insomma un bel ginepraio per il presidente Sebastiani e il DS Matteassi perché se con Auteri il Pescara non cambia marcia intervenire sarà un obbligo ma le scelte sono legate alla volontà e alle condizioni di Oddo per tornare sulla panchina del Delfino. Intanto la squadra continua a lavorare in vista di Grosseto, oggi doppia seduta per un Pescara che allo Zecchini sarà privo degli squalificati Drudi e Rizzo, quest'ultimo stangato dal giudice sportivo. Quattro giornate, arrivederci al 2022 e nessun ricorso da parte della società. Auteri pronto a confermare il 3-4-3 contro i Maremmani, penultimi in classifica, mai vittoriosi in casa in campionato ma rilanciati dalla vittoria di Siena che ha portato grande entusiasmo alla squadra di Magrini.